Oggi siamo qui per festeggiare un traguardo importante della nostra storia, festeggiamo 50 anni. Per questo traguardo ci siamo fatti un regalo, abbiamo deciso di rinnovare completamente la nostra casa. Questo negozio è su due zone fisicamente perché sono due piani interratto che vivono completamente di vite proprie. C'è la zona superiore dove c'è tutto l'ambiente legno che quindi ci immerge profondamente su questo materiale e che è stato volutamente tenuto staccato dal resto perché si voleva dargli comunque un imprinting maggiore e diverso. E poi scendendo c'è proprio un'ambientazione più domestica in cui vengono presentate tutte le altre superfici, la disposizione dei bagni, i grandi formati eccetera. Di creare uno spazio molto molto intimo dove poter entrare in piena sintonia con quello che il nostro cliente si aspetta. Se devo pensare a come una persona che entra qui dentro può sentirsi, voglio pensare a quello. Una persona che entra e dice più che in un negozio mi sento a casa di qualcuno. Il nostro spazio vuole essere la casa di qualcuno perché esponiamo delle superfici, esponiamo delle materie ma voglio pensare che ci sia anche un po' di emozione quando si entra qui dentro. Grazie per la visione!